Abbiamo trovato Ale, gli amici lo chiamano e io invece lo vado a prendere, lui che appena è uscito da canto a Monbello, il carcere del lago di Garda, è il Triton, è il Triton, allora il tuo nome? Alessandro, secondo me ti sposi? No, 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 ci penso neanche, ancora per quanti giorni puoi dire no, 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 non mi sposo mica? 15, ancora 15 giorni, il tuo nome? Genio, allora è giusto, il nome è giusto, allora sei genio, di nome e di fatto o solo di nome? Di nome e di fatto, di nome e di fatto sei genio, allora i tuoi amici iscritto guardia sposo, in poche parole loro controllano che stasera farei il bravo, sì, giusto, oh fantastico, con chi ti sposi? Pamela, Pamela? Ok, sei sicuro? Puoi dire un altro nome, Laura, Jessica? Non posso, non puoi, dimmi due cose di Pamela, la cosa che ti fa più arrabbiare di lei, è la cosa che ti fa più impazzire, ti fa impazzire che beve, che beve, buono, è la cosa che ti fa più arrabbiare che non sopporti lei, niente, 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 di la verità, niente, niente, da dove vieni? Pozzolengo, Pozzolengo, allora mettiamoci in mezzo a tutti i tuoi amici, ragazzi tutti dietro lo sposo, tutti dietro Genio, mi giri, tutti vicini a Genio, al 3 facciamo un brindisi per Genio, siete pronti? Tutti vicini, dai, Pozzolengo, tutti, tutti, pronti? Uno, due, al 3 per Genio, eeeh! Grazie a tutti!